Fidanzato, dolce e affidabile o sconosciuto nuovo arrivato, arrogante e ribello? La storia è un classico che ci riporta a diversi casi cinefilo letterosi. La studentessa acqua e sapone Tessa Young, destinata inevitabilmente a perdere la testa per il ragazzo sbagliato, il misterioso Arden Scott. Ovviamente non è certo il primo film del genere teen romanticoso e non sarà certamente l'ultimo per la gioia degli amanti di questo genere, appunto, che sono assolutamente in spasmodica attesa da tanto tempo. Tutto nasce dal romanzo pubblicato online a singhiozzo su Wattpad di Anna Todd. Stiamo parlando di circa 3 miliardi di lettori in tutto il mondo. Ecco quindi la naturale trasposizione al cinema con due figli d'arte come protagonisti, Josephine Langford, lei, e Hero Fine Stephen, lui. Al Cine Vittoria Locri, Sala Rossa, dall'11 di aprile, con orari 18, 20 e 22, arriva After. Due sicuri protagonisti della scena cinematografica internazionale dei prossimi anni, Josephine Langford e Hero Fine Stephen e entrambi figli d'arte al Vittoria Sala Rossa per questo nuovo film tratto dal romanzo di Anna Todd. Cine Vittoria Sala Rossa come ogni settimana ad attendervi, Carletto ad attendervi qui sul canale YouTube Carletto Romeo. Ciao a tutti e buon cinema!